benvenuti a tutti ed eccoci arrivati alla quinta parte di questo corso sulla shell fish nel quale vi presento appunto questa per me fantastica shell e passiamo alle particolarità di utilizzo ovvero dopo aver visto un po le basi pilastri fondamentali di questa shell vediamo come dico qui più o meno in ordine sparso alcune particolarità appunto di utilizzo della shell allora vediamo un po la sostituzione dei comandi primo punto della nostra scaletta ovvero command substituio substituio no mamma mia command substitution è insomma dio mi sta incantando la lingua usare l'output di un comando come argomento o parametro di un altro quindi eseguire un comando e passare il risultato di questo comando per continuare con il prossimo comando ecco allora nelle shell tipo bash o anche altre la sintassi per per usare per impostare questa sostituzione dei comandi è o l'apice rovesciato non so se lo vedete bene questo insomma ecco qua l'apice rovesciato o la forma un'altra forma possibile è il dollaro parentesi tonda il comando da poi sostituire per quale si applica la sostituzione chiusa parentesi tonda ecco in fish invece si usano una si usa una forma sola e quella che io scrivo descrivo come più semplice nel senso che si usano comunque solo le parentesi tonde punto e basta senza un simbolo dollaro davanti né niente ma semplicemente le parentesi tonde ecco per esempio se uso questo comando ecco nella cartella parentesi tonda pvd chiusa parentesi tonda sto eseguendo aperto uname chiuso uso due comandi in sostituzione e che cosa vuol dire vuol dire che ecco inizia a scrivere stampare nel terminale la stringa nella cartella poi esegue il comando pvd che è che vuol dire la cartella corrente la directory corrente fra parentesi tonde vuol dire che viene sostituito ovvero il risultato di questo comando viene sostituito e viene messo al posto del comando stesso per continuare a comporre la stringa che sta stampando eco e stessa cosa idem qui il comando uname che ci ritorna il sistema operativo che stiamo usando sto eseguendo uname quindi viene sostituito uname messo fra parentesi tonde con il suo risultato ecco se eseguo questo comando lo vediamo in pratica cosa vuol dire quindi nella cartella ecco vedete pvd sto eseguendo uname se faccio enter vedete che la stringa risultante è nella cartella sostituzione del comando pvd sto eseguendo sostituzione del comando uname sto eseguendo linux ecco questa è la sostituzione dei comandi esiste anche in altre shell non è una particolarità di fish ma in fish la sintassi è questa quindi tra parentesi tonde cosa vogliamo fare eseguire e poi sostituire questo è un altro esempio per una volta non usando il comando eco ma stiamo usando il comando set quindi se io voglio impostare il valore di una variabile con il risultato di un comando il principio è identico quindi uso questo comando nella scaletta faccio set variabile os e lo carico con il comando uname enter a questo punto se verifico cosa c'è nella variabile os quindi la stampo vedete che c'è linux perché la sostituzione del comando ha impostato il suo risultato come contenuto per la variabile ecco il principio è sempre quello quindi altri esempi ecco la sostituzione dei comandi non è attiva fra virgolette ecco questo è un particolare da tenere presente quindi se io scrivessi questo comando così come l'ho messo qui nella scaletta vedete che uname fra pare pur se fra parentesi tonde è comunque incluso nella definizione nella dichiarazione della stringa e eseguissi questo comando poi mi stampo il contenuto della variabile vedete che uname è rimasto uname non è stata interpretata la sostituzione del comando perché è fra virgolette per ovviare a questa situazione naturalmente bisogna togliere dalle virgolette il comando uname per farglielo eseguire ecco quindi lo stesso comando ma chiudendo le virgolette prima riaprendo le subito dopo con questo otteniamo quello il nostro risultato vedete il sistema è linux e non uname o dio magari in una particolare situazione è proprio voluto descrivere uname in questo modo che ne so per qualche tutorial scritto o un altro video dove volete mostrare queste cose volete che non venga interpretata la sostituzione quindi va bene anche così per carità però se vogliamo sfruttare la sostituzione del comando effettivamente deve essere al di fuori delle virgolette non racchiuso ecco poi indirizzamento dell'output quindi uguale questo è quello che è identico le altre shell quindi l'abbiamo già visto che nel corso bash il famoso pipe ovvero la barretta verticale quella che reindirizza l'output per passare l'output di un comando come input di quello successivo ecco per esempio papà vediamo un po qua ho messo un esempio quindi cat da solo stamperebbe stampa il suo scopo è visualizzare il contenuto di questo file etc shells che è un file un file di testo usassi solo cat mi stamperebbe contenuto a video io con il pipe la barretta verticale invece passo il risultato di cat al comando grep che è un comando di di ricerca stringhe di ricerca testo e gli dico a questo grep di cercare fish all'interno del contenuto di questo file quindi se faccio enter vedete che grep mi dice guarda c'è una riga all'interno di questo file che contiene fish ecco usassi il cat da solo giusto per capire com'è vedete che il comando cat scusate il file shells contiene tutto questo contenuto il comando qua sopra con il pipe mi permette di passare tutto questo contenuto e con il pipe e darlo in pasto a un altro comando in questo caso grep che poi cerca fish fra tutto questo contenuto e mi è tornato alla corrispondenza usr bin fish ma queste sono anche cose che abbiamo già visto nell'altro corso e comunque il pipe funziona esattamente identico stessa sintassi stesso tutto niente particolarità così come si possono usare i simboli del rendirizzamento il maggiore e il minore anche qui esattamente uguale a la simbologia delle altre shell identica anche in fish quindi per deviare l'output di un comando verso un file o viceversa il contenuto di un file verso un comando quindi il maggiore serve per scrivere il risultato di un comando su un file il minore serve per prendere in carico un file esistente e darlo in pasto ad un comando ecco sempre un paio di esempi è perché sempre la cosa migliore fare gli esempi ecco il primo esempio si prende in pasto il comando grep con il simbolo minore si prende in pasto il contenuto sempre di questo file di testo e cerca fish un po' identico al pipe qua è la stessa finalità questo comando quindi faccio enter e vedete che mi torno dice sì c'è una riga con fish il contrario è il comando tipo questo che dico cat etc shells quindi il risultato di questo comando che è il contenuto del file salvemelo scrivimelo in questo in questo file ecco prima di eseguire questo comando però vorrei posizionarmi nella mia cartella qua studio fish quindi cd scrivimelo in studio fish ecco quindi mi riprendo il mio comando giusto per mostrare che funziona faccio enter e qua deve esserci un file eccolo qua text text.txt che contiene sicuramente il contenuto del file shells eccolo qua che sta arrivando l'anteprima vedete riportato esattamente queste sono cose note già dal bash perché ovviamente sono identiche semmai c'è una cosa che coincide tra fish le altre shell è proprio questa almeno questo capitoletto andiamo avanti combinazione dei comandi con and or e not rispettivamente not and vuol dire e or vuol dire oppure not vuol dire no la negazione di qualcosa quindi fish usa questi termini proprio parole chiare a parte che sono in inglese però sono chiare e oppure e non al posto di sintassi di altre shell come bash che usa simbologie tipo il doppio and commerciale che corrisponde all'and il doppio barretta verticale che vuol dire or eccetera eccetera ecco invece fish come abbiamo già avuto modo di notare preferisce usare esplicitamente delle parole non delle simbologie un po' criptiche difficile da tenere a mente quindi per effettuare le stesse operazioni in questo caso combinazione dei comandi esiste in tutte le shell anche in fish tanto che fish usa queste parole questi termini cos'è il succo di questa combinazione dei comandi lo scopo è di verificare di eseguire un qualcosa a dipendenza dell'esito di un comando quindi se l'esito di un comando è positivo allora si esegue la parte end del seguito del comando altrimenti si esegue la parte or ovvero se un comando ha un come dire un esito positivo vuol dire se è andato bene se ha potuto far svolgere il suo compito correttamente allora si esegue la parte end altrimenti si esegue la parte or se l'esito di un comando è positivo ma viene negato con not perché il not serve a negare una situazione quindi la rende negativa di fatto allora si esegue la parte or altrimenti la parte end quindi un po' il viceversa se io nego la positività diventa negatività e quindi viene eseguita la parte or anziché la parte end adesso lo vediamo con degli esempi che è molto più chiaro cioè più come se spesso accade più difficile spiegarlo parole che mostrarlo ecco qua gli esempi quindi questo comando cp che vuol dire copia è comando linux e non c'entra fish non so se ho questi file test test no non esiste nella cartella quel file comunque vediamo un po' come è composto il comando cp vuol dire copia io voglio copiare questo file che presumo ci sia nella cartella su se stesso la parte quindi se questo comando in realtà il comando che io voglio eseguire questa prima parte prima del primo punto e virgola quindi voglio copiare un file su se stesso se questo comando ha una sua logica quindi è giusto e quindi a un esito positivo verrà eseguita questa parte che è inizializzata con un end ovvero se è andato bene fai questo quindi copia ok gli faccio fare un eco copia ok altro punto e virgola se invece quel primo comando è andato male ovvero c'è qualcosa che non va bene sintatticamente o logicamente farà la parte or che vuol dire se è andato male scrivi copia k o faccio enter lui mi dice impossibile eseguire test file o directory non esistente copia k o quello che ci importa a parte il messaggio di errore del comando cp quello che ci importa è che è stato eseguita la parte or giustamente perché il comando cp ha dato errore non è andato a finire bene quindi eseguito la parte or vedete copia k o molto bene adesso volessi provare a fare una copia vediamo un po un altro comando qua adesso però se il file test non esiste ecco forse meglio faccio test fish ecco questo esiste test fish su test 1 ovvio che se voglio fare il comando che funzioni deve usare anche un file che funziona che che esiste quindi faccio una copia di test fish che è questo e faccio una copia in un nuovo file che si chiama test 1 che non esiste no c'è test 1 fish ma non è test 1 va bene così ok adesso dovrebbe funzionare il comando di copia il resto land e l'or sono identici a quello di prima quindi faccio enter vediamo cosa succede ok vedete copia ok e il file test 1 dove finito qua ecco ha creato la sua copia il comando è funzionato e stavolta si è eseguita la parte end ecco copia ok giustamente direi mostriamo che la parte not che non è così magari scontata da capire un uso pratico però giusto per far capire che influsso ha il not su un comando allora vediamo un po il file test abbiamo visto che non esiste quindi il comando copia da un esito negativo esattamente come qua sopra e dice che è impossibile copiare perché non esiste il file con la cartella test però al contrario del primo esempio ci metto un not davanti che rende negativo l'esito quindi essendo negativo l'esito del comando copia cioè da un errore io rendo negativo l'esito negativo quindi diventa positivo meno meno fa più ecco insomma questo è arimetica elementare meno meno fa più quindi cosa succede se faccio enter il comando copia continuerà andare in errore però siccome ho negato l'errore diventa artificialmente positiva la cosa ed ecco che ed ecco che scusate ecco ed ecco che cioè il messaggio ancora copia copia ko per per coerenza però vedete che rispetto al primo esempio ho invertito i due comandi eco cioè nel comando and eco ho messo il ko e nel comando or nella parte or ho messo l'ok avendo negato appunto l'esito negativo diventa positivo è stata eseguita la parte and nella quale ho sostituito ok con ko quindi ecco che giustamente è stato eseguito è uscito copia ko però è stata eseguita la parte and come se fosse stato positivo l'esito del comando ecco avete capito un po un gioco di logica questa logica proprio minima spicciola e questo è comunque una cosa che esiste in tutte le shell come ho detto soltanto che in fish appunto vengono usati queste parole i termini in lettere chiare non simboli particolari dunque prossimo capitolino gestione delle condizioni if ecco qui sono i blocchi principali per la programmazione soprattutto per gli script in previsione di creare degli script quindi la logica if else e switch sono dei comandi importanti per prendere delle decisioni all'interno di uno script questo appunto è un ulteriore questi sono appunto ulteriori concetti che abbiamo già visto nel corso sui sulla shell bash con gli script bash quindi questi sono dei comandi a blocchi ovvero sono composti questi comandi perché c'è l'if la condizione del codice e un end che chiude e non termino appunto con la parola iniziale come in bash ecco perché in bash questi comandi hanno una loro sintassi un po così particolare nel senso che if è l'inizio del blocco if e fi che è il contrario di if è la fine ecco hanno sua logica se vogliamo eh inizio con una stringa con un simbolo chiudo con il simbolo al contrario va anche bene per carità però in fish trovo che sia un po più non so elegante intuitivo inizio un blocco con if o con switch e poi lo chiudo con cosa con and sempre la parola and quindi ecco questo qui è un if un esempio di if che non sto a ripetere nel terminale perché tanto lo si capisce quindi if test è un comando usato per fare i test delle condizioni variabile pippa è maggiore di 5 se è vero esce uguali se è falso esce diversi and ecco questo che volevo mostrare rispetto alla nashel come bash in bash qui avremmo dovuto chiudere con fi invece qui if then eh if else condizione alternativa and è molto più vicino è quello che dicevo nei primi video di di questo corso eh fish si avvicina in questo senso molto di più ai linguaggi di programmazione comuni o propriamente detti che non usano di certo un fi per chiudere l'if ma eh quelli che lo prevedono utilizzano anche loro un end solitamente ecco eh voilà quindi questo è ehm la composizione di un comando if diciamo completo nel senso che c'è l'if c'è anche l'else che non è obbligatorio cioè l'altrimenti non è detto che debba esserci in un if però ecco if else end stessa cosa diciamo così per lo switch il case ehm in questo esempio testo eh quale sistema operativo sto usando eh quindi ehm switch case che esiste appunto anche in altre shell però invece di chiudersi con la parola al contrario si chiude con end anche un blocco switch eh cioè quello che volevo mostrare più che altro la sintassi più che il concetto in quanto tale del comando va beh in questo caso eh mostro due tre eh tre controlli dentro il blocco switch quindi se un aim mi torna l'inus con l maiuscola oppure la l minuscola si possono mettere anche più condizioni eh su una riga di case spaziate appunto da uno spazio qui vuol dire questo oppure questo allora mi dice ciao linux se darwin ciao mac e questo è l'altrimenti praticamente fra piccetti un asterisco vuol dire tutto ciò che non rientra nelle condizioni precedenti metti un altro messaggio voilà comunque l'importante era dire land quindi questi comandi a blocchi appunto iniziano con loro sintassi e chiudono tutti con end già che parliamo di if sottolineo anche che i test di comparazione che poi abbiamo già visto qua sopra proprio con il comando test i test di comparazione fra stringhe valori numerici sui file sulle cartelle eccetera eccetera vengono impostati appunto è molto comodo impostarli con il comando test per i dettagli su questo comando test consiglio qui vedi man cioè il suo manuale perché ha parecchie opzioni questo comando test qui naturalmente ne metto solo ne ho messo solo alcune giusto per mostrare cosa può fare il comando test ma per tutti i dettagli potete poi riferirvi e se avete bisogno di un'opzione particolare potete riferirvi al manuale del comando come sempre passiamo in rassegna così questi 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 esempi il primo verifica una stringa l'uguaglianza di una stringa di una variabile if test quindi questo è il comando che dà via il controllo questa variabile dollaro pippo è uguale a qq meno a vuol dire end quindi uniamo due due condizioni da confrontare un'altra variabile pippa è numerica in questo caso quindi è uguale al valore 30 quindi due test due condizioni che devono valere entrambe con la condizione end quindi se è così stampa uguali altrimenti stampa diversi ed ecco l'end ecco l'end che chiude l'if come sempre andiamo avanti velocemente qui sono solo degli esempi e potete anche fare se seguite questo corso se decidete di seguirlo potete anche averli come ce l'ho qua io sulla sinistra il vostro terminale provarle se volete digitate questi comandi e vedete a dipendenza del contenuto delle variabili che potete variare voi manualmente vedete come varia il risultato di questi test di questi if il secondo è un test non su variabili e valori ma sull'esistenza o meno di un file con questa opzione meno e ci si chiede se questo file esiste nella cartella corrente quindi se il test è vero dirà il file esiste se il file non esiste quindi vedete che test è ad ampio raggio per i test scusate il gioco di parole quindi non testa solo variabili fra loro valori ma anche nel file system si può verificare se esiste un file eccetera eccetera if test abc uguale abc sono uguali se non uguali quindi anche fra costanti non solo fra variabili ma anche questo è un esempio sciocco è ovvio che abc uguale abc darà uguali però per mostrare che si testano anche costanti fra loro e non necessariamente variabili qui si testa l'uguaglianza qui si testa la disuguaglianza quindi se abc è diverso da a b e c maiuscola sappiamo che in linux una lettera maiuscola non è uguale a una lettera minuscola come in windows quindi saranno diversi queste due stringhe meno n ecco questo è un test un altro tipo di test interessante meno n verifica se una determinata variabile è vuota oppure ha del contenuto quindi se è valido questo test meno n pipo vuol dire che la variabile ha del contenuto altrimenti la variabile è vuota il test contrario meno z la variabile pipo con l'opzione meno z se è valido questo test se da esito positivo vuol dire che è vuota invece la variabile altrimenti sarà piena quindi la z al contrario della n ancora due esempi vediamo un po ecco qui si testa una variabile con un valore numerico meno iq che vuol dire i qual uguale rispettivamente ecco qui un altro esempio sempre con un valore numerico gt vuol dire grande più grande di 35 quindi se pipa contiene un valore numerico più alto di 35 sarà valida la condizione se no no ecco eccetera eccetera insomma come ho detto qui all'inizio andate poi a leggervi andate a leggervi il manuale per avere tutti i dettagli del caso di questo comando test che è piuttosto potente per impostare tutti i vari test che avete bisogno per i vostri script ecco poi i cicli loop di cui abbiamo già parlato anche nei nei video precedenti perché abbiamo fatto degli esempi con un for per esempio abbiamo già usato varie volte un ciclo for per mostrare altre caratteristiche di fish qui ne parliamo specificatamente in in nella shell fish esistono due tipi di cicli che si possono impostare e sono uno con il la parola chiave while e l'altro con la parola chiave for per altre beh shell come bash c'è anche l'opzione until che è leggermente diversa da while se non stiamo a spiegare appunto il dettaglio andate a vedervi il corso appunto qui no e in fish ci sono solo queste due opzioni sono più che sufficienti secondo me però sono due non tre per esempio ecco con while quindi il concetto è che con while si resta nel ciclo finché la condizione impostata per while è soddisfatta con for si imposta un intervallo di valori che determina la durata del ciclo questo l'abbiamo già visto esempio di for ok da 0 a 100 a passi di 30 lo si imposta in questo modo una variabile che fa da indice del ciclo for in comando sec che permette di impostare una sequenza questo comando sec e di fish è uno dei comandi di fish che potete del quale potete vedere i dettagli nella documentazione di fish che vi ho già fatto vedere che è ben fornita la documentazione in un video precedente in questo caso vabbè sec vuol dire parti da 0 a passi di 30 quindi 0 30 60 90 eccetera eccetera e termina quando arrivi a 100 quindi a passi di 30 vuol dire che farà tre passi poi mai superato il 100 smetterà questo ciclo poi vabbè slip crea una pausa di 0 1 secondi se non erro mi sembra che 0.1 è in frazioni di secondo non vorrei sbagliarmi dovrebbe guardare il manuale di slip se 1 vuol dire un secondo e 0 sono i minuti o se questi sono i secondi queste frazioni di secondo non lo so comunque poco importa lo scopo del comando slip è inserire una piccola una leggera pausa nell'esecuzione del loop eco di stampa semplicemente l'indice i e poi end ancora una volta per chiudere il ciclo for elenco dei file con con un filtro è un un esempio diverso di for quindi for file la variabile file che viene caricata in asterisco punto sh quindi nella cartella corrente questo comando for in asterisco punto sh andrà a filtrare tutti i file con l'estensione sh presente nella cartella corrente ne stamperà il nome qua ecco è interessante anche queste forme di di cicli con questo comando in accompagnato al for che in qualcosa qui si mette sulla sinistra l'insieme al quale ci si vuole riferire in questo caso un insieme numerico impostato con una sequenza in questo caso un insieme di file nella cartella corrente e questo in va a creare questo insieme per da fornire al ciclo for while vabbè un esempio anche qui in questo caso che la variabile minore uguale a 10 si resta in questo in questo ciclo while quindi iniziamo impostare una variabile pippo fuori dal ciclo con il valore 1 poi si testa con il comando while che pippo sia minore o uguale a 10 meno le e poi vabbè viene stampato un messaggio dentro il ciclo con il comando set e il comando exp si aumenta di 1 il valore di se stessa della variabile quindi set pippo nuovo valore espressione variabile pippo più 1 quindi si somma 1 grazie a questo comando exp si somma 1 e quindi pippo diventa 2 diventa 3 diventa 4 fino a 10 poi finisce il ciclo while ma questo giusto per esemplificare due opzioni quindi di cicli a nostra disposizione nella fish shell poi interazione con i dialoghi grafici di zenity ecco questo mosto solo un esempio perché perché durante il corso bash sugli script bash appunto al quale faccio ogni tanto riferimento avevo creato uno script in parte con interfaccia caratteri in parte con interfaccia grafica grazie al comando zenity che crea dei dialoghi grafici con interfaccia grafica ecco qui metto solo un esempio nel senso che ovviamente anche con fish si può integrare zenity è solo una questione di un piccola differenza di sintassi qui per confronto ecco magari alzo un attimo la scaletta per vederlo ecco qua per vedere i due comandi questo qui è l'originale in shell bash con diciamo l'impostazione della variabile data che è uguale al risultato di questo dialogo zenity nel quale chiedo l'inserimento di una data in cifre inserisce una data in cifre e alla fine di questo comando quando ho dato l'ok nel dialogo grafico di zenity la variabile data conterrà appunto la data che ho impostato il codice di ritorno quindi l'esito di questo comando è salvato in bash qua invece con dollaro punto di domanda come sappiamo analogamente per fish io posso impostare la variabile data che non è dato uguale ma è set sappiamo che il comando set ormai per gestire le variabili set data e la sostituzione dei comandi vedete le parentesi tonde zenity tutto incluso il comando che è identico a quello per bash perché il comando zenity non cambia però è incluso fra parentesi tonde perché la famosa sostituzione dei comandi che abbiamo visto all'inizio di questo video e qua sopra in bash è usato la forma dollaro parentesi tonda chiusa parentesi tonda qui in fish c'è una forma sola di sostituzione dei comandi quindi zenity viene eseguito il suo risultato l'output racchiuso fra parentesi tonde viene dato in pasto alla variabile data ecco quindi vedete che la costruzione non è proprio tal giorno alla notte fra bash e fish è solo da conoscere i piccoli dettagli differenze di impostazione fra una scella e l'altra il codice di ritorno di fish questo già lo sappiamo ancora una volta nella variabile dollaro stato se non un dollaro punto di domanda possiamo anche provarlo questo comando visto che fa apparire un dialogo quindi copia e incolla nel nostro terminale facciamo enter vediamo che appare questo dialogo col suo bel titolino ottenere una data in formato inserisce una data in cifre fai clic per difetto mi imposta già la data odierna il 20 novembre io faccio semplicemente enter ovvero ok e se faccio eco dollaro status eco dollaro status mi da zero perché il comando è andato bene ho dato ok ovvero il dialogo zenity ho accettato di fargli fare quello che deve fare con l'ok e siamo a posto e nella variabile data dovrebbe esserci la mia data vedete è stata caricata se io giusto per chiudere il cerchio vengo qui ma non faccio ok ma faccio a nulla quindi rifiuto di utilizzare lo scopo col quale è stato fatto quel dialogo dice a nulla rinuncio e controllo lo stato mi da 1 quindi tra virgolette errore che non è errore è solo per differenziarlo dallo 0 per segnalarmi che io ho fatto un rifiuto non ho fatto ok nel dialogo zenity e la variabile data adesso non so se contiene ancora ecco vedete che è vuota è vuota perché non ha tornato nulla facendo a nulla e voilà così funzionano così quindi integrazione di dialoghi con interfaccia grafica funziona non è più nemmeno che come in bash si ottengono gli stessi risultati andiamo avanti siamo quasi alla fine sì l'ultimo punto creazione facilitata di menu con il comando t put ecco anche questa è veramente una particolarità nel senso che c'è un comando t put che abbiamo già usato anche nel corso bash per colorare per differenziare i colori delle stringhe che stappavamo a terminale è lo stesso comando t put come dico qui l'abbiamo già usato per impostare i colori nel corso bash ma non per controllare la posizione del cursore quindi qui approfittando di questo corso fish amplio la conoscenza di questo comando t put e mostro anche cosa può fare oltre che a colorare come fosse qui oltre che a colorare i caratteri stampati nel terminale può fare anche di più ovvero con l'opzione lines ovvero linee righe t put ritorna il numero di righe attuali del terminale ovvero quanto è ampio questo terminale se faccio t put lines enter mi torna 24 perché sono le righe ovvero in verticale questo terminale ha un'ampiezza in questo momento di 24 righe se io lo rendo a schermo intero e ripeto il comando vedete che mi dà 41 mi dà 41 perché ho ampliato la grandezza del terminale la stessa cosa con il comando calls che mi dà di quante colonne è ampio largo il mio terminale in questo caso è 80 stessa cosa se io amplio il terminale a tutto schermo mi darà 151 colonne come vedete qua 151 colonne ecco e qui diciamo che questo è un'informazione che posso ottenere anche in uno script nel mio terminale poniamo il caso che il mio script preveda che per funzionare bene e presentare bene quanto deve mostrare a terminale deve essere largo di una certa larghezza e alto di una certa altezza io posso verificarlo con questi due comandi e eventualmente non far partire lo script e mettere un messaggio di avviso con scritto guarda questo terminale deve essere più grande più piccolo eccetera eccetera per esempio poi c'è appunto quello che ci interessa adesso in questo capitolo creazione facilitata di menu c'è anche un'altra ulteriore opzione del comando t put che è quello di piazzare il cursore a una certa riga una certa colonna quindi t put cupo k r c posizione al cursore alle coordinate indicate r sta per riga quindi quella verticale c sta per colonna in orizzontale da destra da sinistra verso destra 0 0 corrisponde all'origine ovvero l'angolo in alto a sinistra 0 0 è qua in cima è la prima posizione qua in cima è lo 0 0 questa e man mano si viene verso destra per le colonne e verso il basso si aumenta il numero delle righe qui ho già preparato diciamo un un esempio di menu anche se non fa nulla è un menu tra virgolette finto solo per far vedere cosa si può fare con il comando t put naturalmente è un ci vuole un certo lavoro per allineare le varie voci mettere le righe colonne giuste necessarie quindi l'ho già preparato ovviamente non lo prepariamo in diretta durante la registrazione del video quindi cosa fa questo comando prima un clear per per pulire il terminale e poi comincia t cup cup non so come lo si pronuncia 0 0 quindi comincia a piazzarsi in cima qua in alto a sinistra poi comincia a imposta un paio di colori per il titolo del menu incomincia ecco menu di esempio lo vedete qui il menu di esempio e poi incomincia a mettere le voci di menu quindi si sposta quindi riga 2 colonna 5 voce 1 di menu riga 3 colonna 5 riga 4 colonna 5 riga 6 colonna 5 vedete che col comando t put e quest'opzione cup cup io posso piazzare dove voglio nel terminale il mio cursore in quel momento lì puoi eseguire un comando tipicamente l'eco che mi stampa una stringa ma proprio partire da quella posizione poi vabbè faccio ho inserito un comando read che che attende che io dia una risposta quindi interrompe lo script e si aspetta una risposta da me che digito qualcosa con la tastiera in questo caso la scelta del menu e poi e poi mi stampa appunto la scelta che ho fatto nella variabile scelta e read scelta carica la variabile scelta con quello che io digito da tastiera e poi mi stampa cosa ho scelto facciamo enter vedete che ha pulito il terminale dalla posizione 00 qua in cima ha scritto il mio bel menu di esempio con lo sfondo bianco poi le tre voci di menu e sceglie un'ozione da 1 a 3 ecco qui per esempio un menu semplicissimo disegnato usando sempre il comando t put read si aspetta di caricare la variabile scelta con una scelta so io faccio digito 2 enter opzione scelta 2 voilà banale la cosa ripeto il comando dico 3 e opzione scelta 3 ovviamente qui non c'è nessuna logica nessun controllo perché se io schiaccio 8 mi torna tranquillamente 8 anche se non è previsto diciamo che attorno a questo menu bisognerebbe costruire anche lo script che controlla chi io scelga solo dall'1 al 3 eccetera 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 con i vari messaggi di errore ovviamente però ecco il principio qui non è come si crea il codice dello script ma mostrarvi le potenzialità del comando t put anche qui se volete ulteriori dettagli riferitevi al suo manuale come sempre ecco con questo finito la prima parte delle com'è che lo chiamate particolarità di utilizzo questa è la prima parte prossimo video sarà diciamo la continuazione su questa falsariga insomma di appunti un po in ordine sparso di particolarità di utilizzo come avete visto qui ci sarà un prossimo video con altre particolarità con questo è tutto vi saluto vi attendo alla prossima ciao ciao